Benvenuti a questo nuovo video del canale, sono TheWolfplayer E oggi siamo sul primo video dove giocheremo Crash Royale E vabbè, andiamo a vedere Allora Ho iniziato a giocare da tipo 3 giorni Circa E queste sono le mie carte, guardate Il livello, tutto quanto Come volete Ok, non ho un secondo deck Cioè, soltanto questo uso Io ho dato tipo dal 2016 che non ci gioco E il mazzo, ho visto che c'è Ah, ho visto che c'è il mazzo provocazioni E ci sono tipo Il principe, il domatore Cioè, ci sono tutte le carte Ed è davvero figo Comunque, andiamo A provare a fare una partita Vediamo come va a finire il video Lo vinco sempre, ma vediamo come va Vediamo se il video mi porta fortuna o meno Ok, già ha iniziato a fare robe A caso Lui Andiamo Punzecchiamolo un po' Ok, perfetto direi Facciamo Non so Cosa fai Tu vuoi davvero uccidere The Wolf Player Così facilmente? No Mi spiace un mico, ma no Però ragazzi, se volete altri episodi di Clash Royale Ditemelo Oppure se volete live di Clash Royale Nel canale Delle live Diretta vuol dire Allora la torre Vediamo So che sono di arena un po' bassina Però ho iniziato da poco Però prima ero arena 7 Dai Vediamo se mi mette qualcosa Ok, tanto tu non te lo caghi di striscio E tanti saluti Perfetto Quella l'ho fatta Guarda, devo puntare le altre Piuttosto andiamo Proviamo a puntare il centro, va Ok Mentre lui penso al principe Io punto qua No Ma ho fatto il principe Vabbè, vabbè Scialla, scialla Tanto voglio usare un po' di astuzia Che mi faccio sia l'oro Che la torre Perfetto No, vabbè Eh, ma come lo fermo Dovevo aspettare l'elite Ehm Eh, ma niente Dovevo far così Non penso che lo killo subito Sì, lo faccio, lo faccio Ah, fuck Ah Ok Direi di fare così E provare a puntare all'attacco Ok Se non ho le frecce Mi va di straculo Molto meglio Ah, fuck Non punto agli arcieri Fuck Avrei dovuto mettere la fireball Mi sa Eh, vabbè Tanto me la faceva comunque Inutile resistere Ok, così Per qua Per tenerceli a bada Mettiamo così E' perfetto Vai, no, non te lo cagare Non te lo cagare Non te lo cagare Grande Perfetto Dagli un colpetto Ok Grande principe Beh, allora Mettiamoci un altro Un altro così Un altro così Buttato Non so come va a finire Sinceramente Sta battaglia Bella partita Le dico Perché sta giocando bene Lui Eh, beh, lì Ci stiamo a canone Qua Vediamo che faccio Beh, io direi di puntare qua Bello cattivo subito qui Anche se ti fanno fuori subito Però Inza sparare un po' di colpetti Che faccio Intanto ci vince il principe No Eh, vabbè Faccio così No, no, no Non me la può fare Non me la può fare Fammela prima tu Non ci voglio Non è possibile Raga E' strappare questa Oddio Vai i goblin Raga, raga, raga Sì Per pochissimo L'abbiamo vinta Oh mio Dio Oh mio Dio Baule d'oro Meritatissimo Mamma mia Oh Bella, bella Bella, bella Mi è piaciuta Le dalle bolle della corona Ok, perfetto Gem Va bene Poi i goblin Fanno bene Scheletri Non ci servono Non ci servono Perfetto Direi alla grande Otteniamo ricompensa Fra poco Baule magico Andiamo a vedere Un attimo Il domatore Qua ci abbiamo Ora il 5 Perfetto Perfetto Per Livello ok Miglioriamo questo Un po' a caso Così Non so In caso cambio deck C'è già tutto Pronto Ok E proviamo Andare a fare Giusto Un'altra battaglia Però 2v2 Una partita veloce Vi da quello che va a finire A me Clash Royale Piace Quindi se lo devo portare Il canale Mi diverto anche Quindi se volete Che lo porto Sono felice Ok Siamo messi bene Di carte Perfetto Perfetto Mentre lui sta pensando Là Bravissimo Bravo Geo bravo Oh fuck No la fireball Dovevo usare Ha fatto la cavolata Io qua Ha fatto la cavolata Enorme E la madonza Che cavolo è E vabbè E qua me la son giocata Malissimo Io però Ma che sta giocando FK Il mio Ha giocata la meglio Zio Usa il mini pecca Mettilo in mezzo Cioè Ditemi La partita Più veloce Della storia È stata questa Eh Vaffangala Va Arrabbiato Vabbè C'è una rivincita Vediamo Come va a finire Perfetto Perfetto Ok Trovati tutti al volo Bene Arena elettrica Lui c'hanno il 6 Lui c'hanno il 5 Vabbè Non cambia più di tanto Però c'hanno più vita Vabbè Oh fuck Allora Io direi Di Grand Grandissimo Capisci Il volo Grande Ah le frecce Lo scelto un po' male Cavolo Un po' Dai Esplodi Esplodi Boom Grandissimo E una torre andata giù Bene bene Perfetto Torre andata Giù Messo anche Altro Principer Ti metto Ti metto Uno che ti da Tre goblin Che tirano una piccola mano No Ha messo la valchiria Oh grande il cacciatore Perfetto Allora Sì Eh sì Vabbè Vabbè tanto No è che Però che è livello 7 Allora Eh zio però Cerca anche tu di difendere la torre Mamma mia però Attacchi soltanto Voglio dire Vabbè io difendo tu attacchi vai Vai io difendo tu attacchi vai vai Allora Eh stupendo Stupendo No Fuck Perfetto No perfetto Niente Guarda la strega Uh grande cucciolo di drago Grande Bella giocata Bella giocata Oh là Due cuccioli di draghi Ma stiamo scherzando Stiamo così Perfetto Perfetto E non ci Toccano più di tanto Minchia più di tanto No però Almeno l'ho fatto infliggiare Tanti danni No La vesti qua Eh raga Questa è giocata È giocata bene Da loro anche Eh Dovevo sperare Di farli prima di loro Mettiamo così Vabbè comunque No 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 raga Non posso vederla così Eh Speriamo che non ha Fireball di livello enorme Dai 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 Goblin Sparate queste frecce Grandissimi E frecce lance Deve difendere come un leone Deve difendere come un leone qua adesso Eh fuck Siamo qua No 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 Eh raga Questo ci ha fatto Mi sa Eh fuck Guarda la torre Guarda la torre Perché non ho usato Alla la sfera E le frecce Vabbè Comunque Ragazzi Spero che questo video Di Clash Royale Vi sia piaciuto Lasciate un like Se non l'avete ancora fatto Iscriviti al canale Se non ti sono ancora iscritti Mettete la campanellina Però non perdervi nessun fantastico video Arriviamo a 10 like Anzi no Arriviamo a 13 like Per il prossimo video Su Clash Royale E appena vedo che Mi iniziate a mettere like Vuol dire che vi piace Ve lo porterò Molto spesso Comunque Scrivete nei commenti Hashtag live Se volete che ci fanno Delle live E quindi Spero che il video Su Clash Royale Vi sia piaciuto Anche Se arriviamo a 13 like Voglio ricordare che Lo faremo insieme Ad altri miei amici Forse Sotto lì non forse Quindi Spero che il video Vi sia piaciuto Ciao a tutti